ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo di franca florio l'immensa regina senza corona della belle époque siciliana una spallina abbassata l'ardita trama di un abito aderente a quel vitino fine a quell'incarnato ambrato da tanti desiderato le suggestive pennellate del grande artista giovanni boldini ritraevano così donna florio dea di una sicilianità florida e antica si diceva che il marito geloso avesse richiesto un intervento sull'opera originaria una donna del suo lignaggio non poteva certo apparire sotto tali provocanti spoglie a occhi sconosciuti desiderosi della sua brillante essenza per tale motivo egli aveva richiesto che la moglie franca apparisse rivestita di una più coprente cera di un sopraffino abito damascato dando adito alla leggenda che narrava dell'esistenza di più quadri di boldini a lei dedicati ma una verità nuova emersa recentemente dagli studi condotti sul quadro boldini non aveva realizzato più copie del medesimo dipinto ma era intervenuto sullo stesso con arrangiamenti precisi aveva tagliato alcuni frammenti della veste omettendo parte dei ricami lasciando così esposte braccia e caviglie un riadattamento questo che rendeva la miss della celebre donna perfettamente aderente ai costumi in voga nei ruggenti anni venti il risultato fu la sovrapposizione di tre tele in una una e unica come donna franca sola poteva essere aristocratica sì ma non regina o almeno non per titolo ufficiale e l'era divenuta eppure regina di quel popolo che l'aveva consacrata a un luogo e a una memoria cui appartengono solo i grandi coloro che sono stati grandemente amati per le loro gesta per il loro cuore eroina della belle epoche di una magnifica palermo colta nel suo momento di massimo splendore la nobildonna franca iacona di san giuliano era nata a palermo nel 1873 al suo cospetto imperatori e artisti si erano inchinati con pura dedizione intelligente saggia ma soprattutto forgiata dal calore di un animo buono a 24 anni era andata in sposa all'armatore ignazio florio junior non aristocratico a uno degli uomini più ricchi e inventivi dell'isola un uomo che nel suo patrimonio imprenditoriale poteva annoverare banche cantieri navali fonderie saline tonnare cantine vinicole e in special modo una delle più grandi flotte europee la società di navigazione italiana per non dimenticare poi le isole egadi inoltre a causa della sua passione per l'automobile aveva dato vita alla rinomata targa florio dando il via alla prima gara automobilistica siciliana una corsa che concorreva a popolare il circuito delle madoline dei più famosi piloti del mondo ma che aveva anche favorito l'ingresso di nuovi investimenti e una valorizzazione del vasto territorio la prospera unione celava eppure le sue spine donna franca avrebbe sempre onorato quel matrimonio pur conscia di avere al fianco un marito fedifrago che si profondeva con sonora costanza nella periodica elargizione di un dono e poi di un altro dando atto alla taciuta richiesta di un rinnovato assolvimento delle ripetute colpe e seppure gli occhi del mondo fossero puntati su questa giovane dal corpo flessuoso e dal gusto raffinato capace di attrarre le attenzioni e le simpatie degli uomini più potenti del panorama internazionale ella non si era mai concessa a nuove passioni donna di classe che vestiva solo degli abiti del suo prediletto charles worth possedeva una mente creativa e attenta per ogni suo abito i suoi occhi agili e vivi danzavano nel giocoso accostamento di tinte e stoffe ammirava con fervore l'arte e i gioielli per lei i migliori orfi del tempo accorrevano per incastonare preziose gemme nelle future creazioni da lei indossate oggetti di inestimabile valore facevano la comparsa nello sfarzoso patrimonio della sua casata indossava con impavido orgoglio una collana in particolare era la rinomata collana di perle di donna florio di cui resta celebre testimonianza nel citato quadro di boldini più di 365 perle unite in un corpo solo di maestosa e rara manifattura quale stupore doveva cogliere ogni suo spettatore certo un vezzo destinato a pochi uno sfarzo che nemmeno la regina d'italia poteva vantare secondo il poeta quei gioielli potevano soltanto alterare i lineamenti di quel volto miracoloso ovvero il fascino non banale e intenso della donna trovava sua piena e massima espressione eppure nel destino di questa donna non vi erano solo merletti festanti banchetti o lucenti gioielli quegli occhi verdi così fulgidi e veri che seppero ammaliare regnanti artisti e poeti erano votati a un destino più grande a un amore che supera i vincoli del tempo e che si imprime per sempre nella storia il sodalizio della coppia florio era infatti destinato alla realizzazione di un sogno profondamente ancorato allo spirito e alla sapienza di questa donna travolgente e passionale donare a palermo e a tutta la sicilia un ruolo centrale negli assetti politici e strategici d'europa attrarre capitali investimenti ricoprendo palermo e siciliani di un benessere rinnovato di una speranza ritrovata un sogno che i florio non tardarono a realizzare misero in campo la fitta rete di prestigiose amicizie e palermo divenne promotrice d'avanguardia dello stile liberty ben prima che esso attecchisse nel resto d'europa splendenti palazzi in stile liberty fecero la loro comparsa nel centro della città che esplose di una magnificenza assordante e memorabile non vi era aspetto di questa società su cui non influisse il disegno propositivo di donna franca regnanti artisti e colti d'europa popolavano quella calda terra promessa centro di un'esplosione artistica culturale e sociale senza paragoni in una mistura di frizzante con penetrazione tra mondo delle arti e dell'imprenditoria il kaiser guglielmo secondo la regina d'inghilterra lo zar nicola secondo e ancora i rothschild mopassan caruso puccini leon cavallo e oscar wild erano solo alcuni degli illustrissimi ospiti protagonisti della regata sociale e culturale sapientemente intessuta dai florio sotto la loro regia le novità liriche trovarono la loro prima esemplare esposizione in quella palermo aurea del teatro politeama e del teatro massimo di ernesto basile il più grande edificio teatrale lirico d'europa eppure il cuore di questa donna che aveva saputo apparire e conquistare celava le fratture provocate da ben gravi terremoti la prima figlia giovanna era morta a soli nove anni per una meningite ignazio che chiamato baby boy unico erede maschio le era morto a soli cinque anni infine giacobina nata nove mesi dopo era vissuta un'ora soltanto le erano rimaste infine solo due figlie igea e giulia quanto strazio doveva avere allora conosciuto quell'animo sempre generosamente offerto per il rinnovamento e lo sviluppo di un luogo di un popolo nonostante le vicissitudini familiari grazie ai florio palermo era diventata capitale di una bellezza rinnovata in cui ogni sogno sembrava poter trovare ora espressione e tanto più grande era stato il successo quanto più amara la disfatta gli anni venti videro infatti il tracollo dello stupefacente impero dei florio un impero che aveva dato origine a un nuovo tessuto urbano e che aveva offerto lavoro a oltre 16.000 persone per questioni politiche e strategiche lo stato italiano aveva tagliato le convenzioni alla società di navigazione florio decidendo di concentrarsi sul porto di genova nonostante le difficoltà ignazio si era impegnato con instancabile tenacia nella ricerca di nuove strade ulteriori perdite economiche avevano però aggravato la situazione sancendo l'intervento delle banche nell'acquisizione di parte del vasto patrimonio alla fine ai florio non rimase altro che l'onore di un nome unito all'amara consapevolezza di una costrizione economica inaspettata che li spinse a lasciare il regno su cui avevano per tanti anni amorevolmente operato era il 1950 quando la stella d'italia come il kaiser guglielmo secondo l'aveva soprannominata chiuse per sempre i bellissimi occhi smeraldo aveva 77 anni e conduceva ormai la sua vita nel silenzio cinta dall'amore dei suoi nipotini unica gioia rimasta in quei giorni scarni scanditi tra gli stenti e il triste oblio quale spirito frizzante e inconsueto era stata nella sua vita donna franca doveva certo averlo ben intuito l'imperatore d'austria francesco giuseppe quando a suo tempo le aveva fatto dono di una trombetta d'automobile un dono bizzarro ma da lei felicemente accolto ed è bello immaginarla ancora così felice in capo alla sua vettura solcante le strade di quella vienna lontana al suono della regale trombetta tutti si arrestavano offrendo omaggi e saluti a colui che pensavano fosse l'imperatore ed ella divertita accoglieva gioiosa i solenni ossequi ecco dunque la fine di colei che gabriele d'annunzio aveva definito l'unica una creatura che svela in ogni suo movimento un ritmo divino una donna che aveva colto le avversità con dignitosa rassegnazione sette anni dopo anche ignazio ormai malato la seguì e torniamo ora al meraviglioso quadro di boldini un'opera posta per lungo tempo al centro di diatribe sul dove e sul chi disperso tra innumerevoli passaggi di proprietà sino all'asta in cui è stato recentemente venduto a una cifra record un quadro che dopo contese e proteste dovrebbe infine tornare in quella palermo a cui di fatto è legato e che di certo donna franca aveva tanto amato se ti è piaciuto il mio racconto e sei appassionato di storia cultura e leggende iscriviti al canale di vanilla magazine grazie a tutti grazie a tutti